Domenico Zampaglione Adesso aspettiamo questa manifestazione Bene, questa è la manifestazione, però adesso parliamo di Domenico Zampaglione calciatore Un calciatore che negli ultimi anni ovunque ha giocato ha fatto bene e per far bene intendo tanti gol In quest'ultimo campionato hai fatto quanti gol? 31 Ecco, 31 gol in Serie D, non a caso t'ha chiamato il Chievo Verona Quindi un salto di categoria, un salto di qualità che Domenico Zampaglione meritava a nostro avviso Da cronisti sportivi, però secondo te come sarà quest'anno per Domenico Zampaglione? Allora, innanzitutto ti ringrazio per la fiducia Quest'anno sarà un anno decisivo sicuramente perché ho fatto un'annata bellissima Facendo 31 in red che non succede sempre Quindi ho avuto la possibilità tramite il Chievo Verona di fermare questo contratto in Serie A Adesso io mi gioco le mie carte Ringrazio anche la società per avermi dato questa opportunità e adesso tocca a me Quindi io cercherò con tutte le mie forze di confermarmi anche in altre categorie e non solo in Serie D Ecco, tu ringrazio la società ma i tuoi paesani, tutto il popolo reggino ringrazia te per la tua costanza, il tuo impegno, la tua serietà Quindi conta molto su Mimo Zampaglione che calchi appunto i campi di Serie A Sì, sono rimasto contentissimo dal comportamento e anche dalla gioia che hanno avuto per me quasi tutti i cittadini reggini, soprattutto di Saline Anche merito loro perché io sono cresciuto nella polisportiva di Saline E quindi è anche un merito loro che io sono riuscito ad arrivare a certi palcoscenici Ecco, adesso quando dovrebbe iniziare la preparazione? Eh, credo a me da luglio sarà il ritiro e poi valuteremo tutto Bene, un grosso in bocca al lupo a Domenico Zampaglione, un campione della nostra terra Grazie, grazie Mimmo Toscano, ex giocatore della Reggina ma soprattutto ex allenatore del Cosenza Soprattutto ex compagno di Lello Ex compagno di Lello Scevola con il quale condiviso tante battaglie La fine di questo Cosenza, te l'aspettavi? Sì, perché già all'inizio del campionato quando ho rifiutato il progetto tecnico che avevano messo in atto Avevo capito che non c'erano le basi per poter fare un campionato tranquillo Forse ho sbagliato a ritornare perché pensavo le cose fossero cambiate Invece le cose non sono cambiate Speriamo però che si faccia di tutto per poter salvare questa società Perché finire una società del genere in Calabria sarebbe un peccato Senti di avere qualche responsabilità in questa retrocessione Avendo condiviso anche la panchina insieme agli altri tecnici durante l'anno Premesso che le aspettative comunque erano molto diverse Per quanto riguarda l'avvio della stagione Chiaramente le problematiche societarie a livello psicologico hanno inciso sui ragazzi anche Sì, quello sì, credo che l'aspetto societario abbia influito in modo importante nel rendimento della squadra Ma anche di tutto l'ambiente ha influito negativamente in questo gruppo Ci sono delle responsabilità, credo che quando succede una cosa del genere bisogna dividerseli tutti insieme Se due partite possono aver influito ho anche delle responsabilità io sotto l'aspetto tecnico Una rivoluzione in atto nella Lega Pro Si presume l'abbattimento di molte società per problemi economici Quindi anche per voi allenatori meno spazi Quindi il futuro di Toscano alla luce anche di questo marasma nel calcio professionistico Soprattutto a livello di Lega Pro, prima e seconda divisione Io spero che si faccia un po' di selezione Credo che non sia un bene per nessuno trovare anche sistemazione in una società che magari non ti possa mettere nelle condizioni di lavorare nella maniera giusta Magari ci sarà più difficoltà a trovare una panchina ma se si trova magari sei sicuro di poter lavorare tranquillamente Spesso ti abbiamo letto nei probabili allenatori durante questa fase Probabili allenatori della regina C'è stato qualche abboccamento col presidente Foti oppure è stato soltanto un pur parlay della stampa? No, credo che sia stato solo un pur parlay della stampa Perché magari l'identikit dell'allenatore fatto dal presidente era quello di un ex calciatore della regina Uno che conoscesse l'ambiente magari hanno accostato il mio nome alla regina E questo mi ha fatto enormemente piacere Però credo che tutti gli allenatori che sono avvicendati con questi identikit hanno fatto bene E credo che sia la politica giusta che deve proseguire la società Bocca al lupo Tosca Tra i premiati del Memorial l'Escevola come miglior allenatore dell'eccellenza Franco Viola che tra l'altro è uno dei più vincenti negli ultimi 5-6 anni Quest'anno infatti con lo scalea ha trionfato nella Coppa Italia Che se vogliamo raggruppando 48 squadre dell'eccellenza e della promozione Può essere considerata un obiettivo sicuramente alla pari di quello che l'Acre Ha raggiunto essendo stato promosso in Serie D Quindi una soddisfazione a metà forse perché l'obiettivo era il campionato per voi Sì, assolutamente sì Gli obiettivi alla regina erano quello di vincere il campionato e di vincere anche la Coppa Siamo riusciti a vincere solo il secondo che per noi deve essere un obiettivo importante Anche se purtroppo in Calabria la Coppa Italia viene un pochino trascurata Noi siamo stati bravi, c'è la grande soddisfazione che abbiamo vinto sia con l'Agri Che poi ha vinto il campionato e sia con il Montalto che è arrivato secondo Anche con l'Isola che poi ha vinto i pleoni Perfetto, perfetto, anche con l'Isola Quindi abbiamo fatto bene, dai tra virgolette Che diedi oggi? Sono onorato per essere stato invitato dalla famiglia Scevola Con Massimo ci lega un'amicizia particolare Loro sono una famiglia di illustri sportivi Quando io iniziai qualche anno fa a fare questo mestiere Massimo è stato quello che comunque mi ha dato una mano per fare l'allenatore Sono delle cose che non si dimenticano facilmente E veramente sono onorato di fare parte, indipendentemente dal premio Di fare parte di questo gruppo Di fare da testimone a quella che può essere l'importanza di questa famiglia Calcio dilettantistico in crisi Alcuni presidenti che sfuggono alle loro responsabilità Naturalmente anche l'economia globale incide su questo momento particolare Quindi il futuro non appare dei più rosi Quali sono le aspettative di Franco Viola? Che tra l'altro al momento non risulta ancora aver firmato con nessuna squadra No, 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 sono in attesa di trovare qualcosa di importante O qualcosa di serio È vero che purtroppo ormai i soldi nel calcio stanno per finire L'economia è quella che è, le crisi societari come la crisi nel sociale Purtroppo ne fa la fatta padrona L'avvento dell'euro sicuramente non ha fatto bene al calcio Gli ingaggi piuttosto alti degli ultimi periodi Purtroppo stanno, come dire, influenzando anche su quelli del futuro Ecco, forse i presidenti hanno abituato troppo bene i giocatori Perché è impensabile che un elemento di eccellenza Possa pretendere di gestirsi un anno intero E magari riuscire anche a mantenere la propria famiglia Attraverso il calcio di attantistico Si parla di cifre intorno ai 30-35 mila euro Per determinati giocatori Forse questo è stato l'inizio della fine Sì, 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 ma se lei pensa che una pensione sociale è di 251 euro al mese La minima Se lei pensa che un impiegato statale guadagna lavorando sodo mille e qualche euro È un calciatore che in nove mesi, in otto mesi È un allenatore, perché no? Riusciamo a guadagnare tantissimo È ovvio che poi si paga tazzo Grazie a Franco Viola Peppe Giovinazzo È qui a commemorare Lello Scevola Che sicuramente avrà affrontato da avversario Nella sua carriera di calciatore Allora, un bilancio intanto su questa due esperienze a Bocale Che purtroppo Alla fine attraverso uno spareggio si è conclusa in maniera negativa Ma rimane un generale di ritorno importante Attraverso il quale quantomeno avete evitato la retrocessione diretta Perché quando hai preso la squadra c'era anche questo rischio Sì, sì, innanzitutto sono molto orgoglioso di essere qui A ricordare uno dei volti storici del calcio diretto antistico Una persona veramente, in un certo modo Che è giusto dare il giusto merito appunto Per questi soggetti che hanno fatto la storia del calcio Per quanto riguarda la situazione calcistica mia personale Dispiace purtroppo retrocedere con due pareggi Rimane il buon girone di ritorno che abbiamo fatto Questo sicuramente sì Fare 21 punti nel campionato d'eccellenza Il giorno di ritorno non è mai cosa facile Noi ci siamo riusciti Però poi non abbiamo messo la ciliegina sulla torta Per coronare poi quello che era un piccolo miracolo Il futuro di Giovinazzo Addirittura abbiamo letto che a Tauria Nuova C'è la prospettiva di una Serie D O di un'eccellenza importante Oggi ne abbiamo 18 giugno Qual è la verità? No, niente, so che c'è questa possibilità Innanzitutto di voler fare qualcosa di positivo Per quello che è il calcio a Tauria Nuova Magari trovare una situazione di una squadra di eccellenza E poi progettare qualcosa di importante Questo sì, ancora, però è normale che c'è molto da discutere E poi se la cosa andrà bene Si vedrà quando passerà almeno qualche altro 20 giorni almeno Bene, grazie Peppe Giovinazzi In bocca al lupo Felice! E allora, siamo insieme a Paolo Campolo Uno degli storici, possiamo così definirlo Del calcio dilettantistico Da quanti anni sulla breccia? Con il tuo bocale principalmente E poi anche come consulente esterno di alcune società importanti 28 anni adesso Quindi già festeggiate le nozze d'argento Anche se l'ultima stagione Dal punto di vista sportivo Pur non essendo stato direttamente protagonista Ti ha lasciato un po' di amare in bocca Nel senso che questa esercizione del bocale Obiettivamente ti è dispiaciuta? Sicuramente Sicuramente Perché è sempre la squadra del cuore Diciamo che l'abbiamo formato io Altre due o tre persone Quindi ti rimane nel cuore Sarà sempre la mia squadra La prima squadra che ti ferò Il rammarico rimane Perché era un campionato Che andava fatto in un certo modo Con certi criteri Che alla fine poi Era troppo dura Raggiungere l'obiettivo Visto come era partita la squadra Però faccio un in bocca al lupo ai ragazzi Di una buona ripartenza E di ritrovarsi l'anno prossimo Di nuovo in eccellenza Paolo Campoli invece è accostato A società professionistiche Cosa c'è di vero? Quali sono i tuoi propositi Per la prossima stagione? Chiacchiere giornalistiche Che fanno piacere sicuramente Nulla di concreto Si parlava della Vibonese Anche perché in questo momento Il calcio sta vivendo Obiettivamente una crisi Paurosa Se possiamo così definirla Sono stato accostato Alla Vibonese Insieme ad altri personaggi Però Ho smentito categoricamente Come vi sto dicendo Che c'è stato solo Un approccio amichevole Col presidente Caffo Che ritengo una persona Abbastanza seria Abbastanza equilibrata Che vuole fare calcio A certi livelli E calcio come va fatto oggi Come ha detto Gianni Infantino Che va fatto Con tolleranza zero Per quello che sta succedendo E che io sempre Anche se il ciclone scommesso Non intacca il calcio dilettantistico Fortunatamente E perché non ci sono le scommesse A livello dilettantistico Altrimenti Ogni giorno saremmo lì A vedere quale partita È stata giocata Oppure quale partita Non è stata giocata Grazie a Paolo Campolo C'è Melchion Una vecchia conoscenza Del calcio reggino Stasera ha premiato Quale miglior tecnico Della Serie D Tra l'altro hai iniziato La tua carriera di giocatore Proprio a fianco di Lello Scevola Mi sembra ci sia anche Un rapporto di parentela Tra di voi Di grande amicizia Quest'anno si è stato A Gaeta Dopo l'esperienza Con l'Interregio E mi sembra che Lo spareggio Playoff Testimonia Il buon lavoro Che avete fatto Anche in Terra Laziale Sì sicuramente Questa riconoscenza È importante Perché ci ricorda La memoria Di una grande persona Di un grande calciatore Sempre protico A consiglia A meno nei miei confronti Quando ci confrontavamo Era sempre protico Per le sue esperienze vissute E poi Sicuramente Questo premio Va sempre condiviso Con cui lavori Società Tecnici I staff Perché senza Un'organizzazione capillare Non si possono raggiungere Determinati risultati E questo sicuramente Va condiviso Con tutte queste persone Che sono state accanto a me Cosa è mancato Al Gaeta Per arrivare in seconda divisione È troppo forte L'Arzanese La squadra Io ricordo Che ad Arzano Un'acquattrice Ex giocatore della regina E forse Faceva parte quest'anno Dello staff Tecnico della squadra Ma C'è mancata Forse la continuità I risultati Anche se Poi nella parte finale Siamo arrivati a avere 15 risultati utili consecutivi Però nelle ultime Quattro giornate Quando eravamo a due punti Dall'Arzanese Siamo Incappati in tre pareggi consecutivi 3-0-0 Non siamo riusciti a mettere la palla dentro Pur dominando entrambe Le partite Però purtroppo il calcio ci sta Però non abbiamo fatto un dramma Perché alla fine Non eravamo partiti Per vincere il campionato Per fare un buon campionato E penso che alla fine Comunque Siamo riusciti a essere La migliore difesa Dei nove gironi Secondo migliore attacco Portiere imbattuto Per 12 partite Miglior traguardo In 80 anni di storia del Gaeta L'unico giovane del girone Da Cossino al Viareggio Quindi questi sono risultati Che solo attraverso il lavoro Puoi ottenere Due conoscenze Della nostra Zona A livello dilettantistico Di Maggio e Niscemi Si sono avvicendati Nel reparto offensivo E' andato via di Maggio Dicembre Mi sembra Ed è arrivato Niscemi Ecco Cosa hanno dato Questi due ragazzi al Gaeta Entrambi hanno dato Una grande Una grande qualità Entrambi sono giocatori Di spessore tecnico Elevato Di Maggio Non lo scopri io Neanche Niscemi Però sono giocatori Che poi Hanno dato anche Grande esperienza Poi per scelte diverse Hanno deciso Di cambiare Di Maggio Avvicinandosi A casa E Niscemi Volendo fare questa esperienza Nel Lazio Penso che alla fine Comunque Mi hanno dato un grosso contributo E se abbiamo raggiunto i risultati Anche a merito loro Grazie a Melchionna Franco Pellicano Presidente dell'Interreggio In una fase della stagione Tra riposo E programmazione Ecco Oggi ne abbiamo 18 L'Interreggio Da qualche settimana Ha ufficializzato Il nuovo tecnico E la scelta è caduta Su un siciliano Quali sono stati i motivi Che vi hanno indotto A questo tipo di Questo tipo di conclusione Perché Lo scorso anno Avevate Avvicinandato due allenatori Della provincia di Reggio Mesiti e Nucera Poi quest'anno Avete cambiato completamente Ma guarda Innanzitutto Per risponderti Alla prima domanda Che hai fatto Devo dirti Che non ci siamo mai fermati E finito il campionato E già eravamo Al lavoro In corsa Per il campionato Deve Tra poco iniziare Per quanto riguarda Il mister De Maria È un Un amore reciproco Che si manifesta Da un po' di anni E quest'anno È arrivato Con tanto entusiasmo È un siciliano È un allenatore Di Messina Però Sicuramente Da noi è venuto Per fare bene Noi abbiamo creato Tutti i presupposti E tutto quello Che era necessario Per metterlo Diciamo Nella condizione Di poter lavorare E di poterci Di poter far crescere Il nostro gruppo La nostra società E tutto quello Che noi stiamo creando E secondo me È la persona giusta Al momento giusto Per l'Interregio Ecco Le altre formazioni calabrese Al momento Sembrano al palo Per vari motivi Ad Acri Devono ancora Scegliere l'allenatore Valle Grecanica Ferma La stessa interpiana Pur avendo ufficializzato Mesiti Non ha ancora Indicato La strada tecnica C'è anche il problema Del campo Lo stesso Dicasi Per la Rossanese Che è ancora in Steinbay Non sappiamo Che tipo di campionato Andrà a disputare E mi sembra Che anche a San Biase Le cose non vadano Per il meglio Quindi l'Interregio Al momento In Calabria A livello di Serie D È la squadra Che possiamo dire La società Che sta programmando Con una certa puntualità Perché poi È positivo Iniziare nel migliore dei modi Per non avere Ripercussioni negative Durante il campionato Ecco Questo cosa significa Che la società È anche solida Dal punto di vista Economico E soprattutto Il lavoro Che state portando avanti Attraverso il settore giovanile Comincia a dare i suoi frutti Guarda L'Interregio Forse è un po' avanti Rispetto agli altri Perché L'Interregio Sta costruendo Un progetto Già realizzato Qualche anno fa Noi siamo partiti In piena Diciamo In piena esecuzione Del progetto Che avevamo Pensato E realizzato Un po' di tempo addietro E lo stiamo portando avanti Secondo me Abbastanza bene E con tanto entusiasmo L'anno scorso Abbiamo fatto Un campionato strepitoso Sia con la prima squadra Con i settori giovanili Tant'è vero Che quest'anno Non avremo tutti Gli under Che provengono Dal nostro settore giovanile Non andremo A prendere quasi nessuno Dall'altro settore giovanile O da squadre diverse E per cui Diciamo che Dato che noi Da un po' di anni Che andiamo avanti Per questa strada Ci troviamo già pronti Per affrontare Il campionato futuro In quanto secondo me Già l'anno scorso Avevamo una buona squadra Infatti Gran parte del gruppo Dell'anno scorso resterà Faremo altri 3-4 onesti Che già abbiamo pensato E da qui a poco Riusciremo sicuramente A definire Per cui noi Diciamo che Per i primi di luglio Già Siamo completi Al 100% In tutto Abbiamo già Prontato il ritiro Abbiamo già Il vestiario Dove sarà il ritiro? Sulla Silla Nel camicladello Abbiamo già In settimana Ci arriverà il vestiario Per la prossima stagione Per cui da qui a poco Saremo pronti E preparati Per affrontare La stagione che arriverà Grazie a Franco Pellicano Presidente dell'Inter Massimo Mirabelli Personaggio Molto noto A livello calcistico In Calabria E non solo Stamattina sono stata A San Calogero E abbiamo parlato Di te Ecco ricordi Sicuramente Quella esaltante Cavalcata Mi sembra 10-12 anni fa Dalla promozione All'eccellenza E ricordo anche Un'intervista Che facesti alla radio Nella quale Mi sembra Dichiarasti Il San Calogero Non sarà una meteora E invece poi I fatti Ti hanno smentito No guarda Ecco cosa ricordi Del calcio dilettantistico Perché sicuramente È stato un passaggio Obbligato Della tua carriera Ma anche proficuo Immagino Obbligato Perché nessuno Ci regala Nessuno mai Ci regala E ci ha regalato niente Quindi Siamo venuti partire Guadagnandoci Tutti sul campo E quindi Anche da San Calogero Come in tante altre Piazze Che ci ha visto Protagonisti In Calabria Però San Calogero C'è un ricordo particolare Perché c'era C'era poca idea Diciamo A mio avviso Di fare calcio Quindi Abbiamo dovuto Abbiamo dovuto Inculcare No ma guarda Aspetta Forse c'erano l'anno prima E l'anno dopo Quando addirittura Sono Ma in quell'anno là Si è badato veramente A ottimizzare A ridurre Rispetto a quello Che era stato L'anno precedente Quindi È stato un anno Che mi ricordo Che uscì Il Sangalogero Dei Milacoli Sulla Gazzetta dello Sport Cosa che la Gazzetta dello Sport Non è che regali Righi A chi che sia Quindi È stata un'esperienza Bellissima Ricordo Una cittadina Ospitale Gente per bene Quindi io Ne ho un ricordo Stupendo Mi auguravo Qual è stato Il campionato Più difficile A livello Direttantistico Dalla Serie D In giù Che hai vinto Dalla Serie D Guarda forse Vorrei ricordare Rende Mi ricordo Rende Quando abbiamo Vendo la Serie D Per la C2 Ci davano tutti Per una squadra Che retrocedeva C'erano Cosenza Siracusa Vigorla Mezzia Di Castiglio C'era C'era Veramente Un gran campionato Dove addirittura Dicevano Che il Rende Doveva retrocedere Noi Havamo fatto Una squadra Di giovani Havamo preso Un po' Gli scarti Che non avevamo Da preso Quindi Non avendo Anche un blasone Di pubblico Di una certa Quindi È stato Veramente difficile Lì Però ce l'abbiamo Fatta con il Gardo E allora Ti senti Una piccola percentuale Di responsabilità In questo Tonfo Del Cosenza La stessa domanda Ho fatta a Mimmo Toscani E lui è ammesso Avendo partecipato Quest'anno A quello che è stato Il progetto Cosenza Chiaramente Le responsabilità Sono di tutte Anche se poi I problemi principali Sono quelli economici Sono stati quelli economici No ma noi Non so perché Abbiamo risposto così In quanto Diciamo Loro Dal primo di luglio Quando noi non ce l'avamo Avevano detto addirittura Che andavano in serie B Noi abbiamo avuto Un 15 giorni Di rientro Quando io ho visto Che avevamo fatto Un famoso piano Se avete sentito Sulla stampa Il famoso piano Mirabelli Per cercare Di far riscrivere La squadra Non far pigliare I punti di penalizzazione Io come ho fatto La verifica Che non c'era Questa possibilità Come abbiamo messo piede Ce ne siamo usciti Dimettendoci Quindi Non è che abbiamo Preso delle decisioni Su questo campionato Ha avuto Ha avuto un grande mercato In Dandi Sotto questo aspetto gestionale Di serie B Che rischiano Che rischiano la bancarotta Quindi che futuro si prospetta Anche per voi Direttori sportivi Procuratori Voglio dire Meno squadre ci sono Si perdono tanti posti di lavoro Certamente non è un bellissimo momento Guarda anche L'ultima cosa Chiamata scommessopoli Che a mio avviso È una bufola enorme Certamente Il fatto più grave È quello che Vedrà A fine luglio Penso scomparire Almeno 30 società Che non ce la fanno A portare avanti La gestione Quindi Ci sarà un Ecco le fidei usioni 300.000 Nella lega Di seconda divisione 600.000 Se non ricordo male Nella lega pro Quindi Oggi con la crisi economica È difficile trovare imprenditori Disponibili Ad anticipare queste somme Anche questo Uno dei problemi Importanti Sì Ma soprattutto È difficile Mantenere quegli impegni Che sono stati presi Che neanche le fiduzioni Riescono a coprire Il problema Serio Diventa questo Perché insomma Non è che Ci sono squadre Che Essendoci Questi problemi economici Diminuiscono In maniera In maniera Vortiginosa Le squadre Quindi magari Ci sarà Sicuramente Una riforma Di campionato Obbligatoria È un danno Per noi tutti Grazie a Massimo Mirabelli Direttore E allora Per Mediterraneo Online Abbiamo l'onore Di avere con noi Gabriele Martino Un personaggio Al quale sono legati Momenti anche più belli Che la regina Negli ultimi anni Ha vissuto Con la promozione In serie A Tantissimi anni Anche con Campionati esemplari Intanto Un ricordo Di Lello Scevole Perché Gabriele Martino È qui proprio Per questo motivo È un ricordo Di una persona Per bene Di un ragazzo solare Sempre allegro Sempre gioioso Disponibile Con tutti E poi Un atleta vero Uno che Faceva Dell'agonismo Ma anche Della voglia Di vincere E dei valori Importanti Dal punto di vista Morale Il suo La sua presentazione Un ragazzo Scomparso Prematuramente Che E che comunque Ha lasciato Nella nostra città Un bel ricordo Ecco Forse il calcio Ha influito Anche nella sua malattia Abbiamo anche Dei casi Di giocatori Tipo Borgo No Voglio dire Ognuno Con problematiche diverse Però sembra che anche Il calcio Nella malattia Dello Scevole Abbia avuto il suo peso Questo Non Non lo so Ne Ci voglio entrare A me piace Pensare che il calcio Faccia bene A tutti E allora Gabriele Martino Un calcio Che è sempre più Inquinato Adesso Siamo entrati In questa In questo Forza del calcio Scommesse Ci sono varie Problematiche Diverse squadre Di Lega Pro Che rischiano di non Iscriversi E quindi Poi a livello Dilettantissimo Chiaramente I problemi Aumentano sempre di più Ecco Quali sono Le cause Al di là Della crisi mondiale Che abbraccia un po' Tutto il sistema E quindi Gli imprenditori Fuggono Dal mondo Del calcio Però evidentemente Ci sono anche delle colpe Che il calcio stesso Ha espresso in questi anni Forse ingaggi Troppo elevati Il calcio vive Non un momento Ma vive Una Una epoca Difficilissima Perché Le difficoltà Sono Sono venute fuori Oggi Però partono Da lontano E' un calcio Dove probabilmente Determinati valori Vanno sempre più Perdendosi Dove la passione Lascia il campo Al business E questo Probabilmente Incide tantissimo Un calcio dove c'è Sempre meno professionalità Sempre Sempre Meno meritocrazia Un calcio Dove ognuno Cerca di Di vincere Magari nel modo Più sbagliato Bisognerebbe tornare A fare un calcio Più eco Sostenibile Da parte di tutti Magari Riappropriandosi Di valori tecnici Che invece adesso Si vanno sempre più smarrendo L'ultima battuta Gabriele Martino In questo momento Non è operativo Perché è sotto contratto Con la regina O perché non c'è stata Al momento La soluzione giusta Diciamo Il progetto vincente A cui lei è stato Sempre abituato Quindi la società Giusta Che possa Sposare Il ruolo Di Gabriele Martino Come direttore sportivo Per l'uno E per l'altro motivo Quindi sia perché È sotto contratto Sia perché Evidentemente È un giocatore Tra Migliaia Con i quali ha lavorato E che ha anche Valorizzato Al quale forse Si sente più legato Moralmente Ci può essere O è difficile Stabilirlo E anche un allenatore Ecco perché Ne ha avuti tanti di allenatori Ad onore del vero Ad onore del vero Ho ottimi rapporti Con Con tantissimi Giocatori Del passato Per cui Se dovessi dirne uno Forse Lascerei scontenti Tanti altri Però mi piace ricordare Però mi piace ricordare Proprio perché Ha raggiunto L'apice mondiale Mi piace ricordare Simone Perrotta Un ragazzo Divenuto Campione del mondo E che L'unico della sua gestione Che è diventato Campione del mondo Campione del mondo Campione del mondo E con il quale Ho ancora Rapporti costanti Continui Ci sentiamo spesso Eppure essendo Divenuto Campione del mondo Resta un ragazzo Resta un ragazzo Di grandissime qualità Morali Di umiltà Non è facile Arrivare Campione del mondo E non dimenticarsi Dei tempi passati Grazie Ugo Passerella Dedicata Concludiamo Questa passerella Dedicata Ai famosi Del calcio E tra questi Ci mettiamo Ugo Napolitano Il quale È stato Grande protagonista Con la regina Con il Cosenza La tua non è stata Una carriera Voglio dire Ai massimi livelli Però sicuramente Ti sei fatto apprezzare A livello regionale Difendendo i colori Soprattutto di Cosenza E Regina Due squadre Che in questo momento Vivono un momento Vivono una situazione Completamente opposta Cosenza in crisi La retrocessione Le problematiche Il rischio Radiazione E una regina Che invece Grazie alla competenza Di Lillofoti Tra serie A e serie B Riesce sempre A districarsi Magari fossero Tutti come Lillofoti È un presidente Che ammira Che stimo molto Per il Cosenza È una situazione Particolare È una situazione Difficile Ma Speriamo che In questi giorni Si risolva qualcosa Un napolitano Ha chiuso la carriera A Villa San Giovanni Con la squadra Il presidente Bertuga Dei record Ha curato poi Il settore giovanile Quindi Mi sembra ci sia Anche tuo figlio Che sta giocando A livello Dilettantistico Ecco Il tuo futuro È più da allenatore O più da manager Come ti vedi? A me piace Tutte e due cose Però ora Quest'anno Ho avuto la fortuna Di allenare La Livi regionale Del Cosenza Tutto sommato È andato benissimo Speriamo che Le cose si mettono a posto E poi si vedrà Cosa farò Nel futuro Ecco Questa crisi Del calcio Dilettantistico Ma anche di quello Professionistico Ti spaventa In prospettiva Ma ci può essere Un cambiamento Perché bisogna Se bisogna fare calcio Bisogna Ci devono essere Persone serie Uno Si vede Si vede Già da foto Che sono 30 anni Che fa queste cose E in Serie B Grazie Siamo con Napolitano Buono 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 Ancora Buono Facciamo felice No Bene Buono Buono Grazie a tutti. 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 insieme con il direttore sportivo sanzore quindi nulla di vero per la mezza d'uomo la nuova generazione si ispira a Velocevola, mi hai sentito parlare io ne ho sentito parlare tutti mi dicevano che era un direttore importante e sa qualcosa a Maderazzi infatti questo è lo saputo di Maderazzi che è andato un po' alla larga da Velocevola, comunque tra quello che mi hanno raccontato e mi hanno detto che Velocevola era un direttore con tante erosionalità e tanta grinta, che magari gli avversari e soprattutto gli attaccanti li giravano alla larga grazie Mimmo, è stato fino a me e per la prima gira di nuovo a Maderazzi Baliano viene a premiare il miglior giocatore della serie di Domenico Zampaglione grazie bene, grazie a tutti e due andiamo adesso al campionato di eccellenza qui c'è un altro amico, no? è nato a Tavola Nuova ha giocato nel settore giovanile poi un terribile incidente ho corso al ginocchio prevedente ne ha messo il campo da allora ha iniziato anche lui intravedendo nel futuro quello che poteva fare la grande cioè l'allenatore ha iniziato ad allenare e i risultati sono sotto di occhi di cotta può suggerire una squadra dove ha raggiunto una record 25 vittorie consecutive a Villa San Giovanni allenato a Rosarno allenato in altri posti Castrovilla in sedi da Bion a questa parte si trova a Scalea Francesco Viola Francesco buonasera buonasera a tutti non è importante parlare per il sottoscritto importante che dica che sono orato questa sera ad essere qui non per il premio ma per stare vicino a questa famiglia di illustri sportivi e alla rumore di lei grazie grazie e signor di una parte e consigliere di un'altra parte di un'altra parte Roberto Roberto migliore tecnico del campionato di eccellenza che tra l'altro caro Francesco la giuria composta da Peppe da Domenico da Giovanni e da Massimo non si hanno scelto a te per aver superato il tuo allievo Peppe Giovinazzo che allena vocale allenato a purale e l'altro tecnico Mimmo Pannare che è allenato a purale quindi si ha criticato meritatamente questo premio grazie grazie signora andiamo adesso al migliore giocatore di eccellenza lui arriva da molto lontano esattamente da Bolzano è un ragazzo che anche lui ha girovagato un po' per tutta la carattura non solo fisicamente lo troviamo come tanti anni fa probabilmente anche adesso in un campionato importante come ad esempio la Serie B potrà fare tranquillamente la sua figura a giocare anche nella regina Leo Manzetto da lontano nord al profondo sud ex Bolzano mi reputo comunque la presa tutti gli effetti mi trovo benissimo qua da voi quando vado su al nord sinceramente mi chiamano ecco sta arrivando il terreno mi è rimasto solo l'accento diciamo e siamo venuti alla storia potete vincere questo campionato sì diciamo potremmo vincere però si sente durante il percorso del campionato ci possono essere gli episodi che ti possono andare a favore e sfavore però diciamo che magari siamo rimasti contenti per la situazione per come si è voluto il nostro campionato e poi abbiamo vinto la Coppa Italia regionale che nella storia dello Scalero non era mai successo siamo arrivati alla finale l'anno scorso alla semifinale pre-off che non era mai successo quest'anno siamo arrivati alla semifinale pre-off che non era mai successo quindi insomma abbiamo raggiunto nell'arco della storia dei bispari di Centrale insomma dei buoni risultati ci ritorniamo qui questa sera per ricordare un grande di uniero che non c'era anche a te ma dico cosa ricordiamo di questa straordinaria per il solito innanzitutto sono innamorato come ha detto il mister prima di essere qua vabbè miglior giocatore non vorrei sentire delle persone che me lo porto dentro nel cuore perché avendo adesso anche una certa età e avendolo conosciuto io a mio proprio inizi della carriera avevo 18 anni e eravamo insieme a Toscano a Mirabelli insomma noi penso che il ricordo di Lello nei nostri occhi è diverso da un'altra persona perché io all'inizio proprio della carriera il mister che è il mio mister Martino il nostro direttore sportivo ci aveva mandato e per noi è stato un maestro di vita era una persona di poche parole una persona di poche parole non era sempre presente vorrei vorrei anche dire un piccolo segreto scusate se mi dilungo che mi porto nel cuore io mentre giocavo in campo insomma facevo un pochino lo spavaldo perché lo vedevo alle mie spalle una persona di un metro 85 un metro 90 quindi ogni tanto mi permettevo di dire qualche parola in più e mi facevo il porto insomma dopodiché me lo sono sempre portato per il suo amore che era verso questo sport grazie grazie a te per la tua prossima domanda è rimani forte perché è il premio che meriti e il collega ripremi di Reggio di V che premia Leo Manzetto preghi l'aria di accomodarti con il tuo premio eccolo qua se è un po' più importante questo lo spedio no? eh beh sì insomma poi ho 42 anni e non è bravo 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 grazie Andrea che mi sono avvisato con te andiamo al tecnico che più di tutti credo abbia conosciuto l'Ello Sceola e parlo di una persona che ha giocato con due a Rosarno se non ricordo male il tecnico di allora era Simone Missiroli scusatemi Battista Missiroli e l'Ello era il capitano e Cicchi Esposito l'allora è giocata con il morto Calabrese che è molto per il morto 30 Cicchi Esposito il tecnico del tavolo allora tu lo ricordi molto per l'Ello perché ci ha giocato a Rosarno sì ho giocato un anno con lui ed è stato il primo anno mio fuori casa quindi ero un ragazzino 18-19 anni ho avuto l'opportunità di avere l'Ello più che come un compagno di squadra come un pallo poi ho avuto anche il mister Missiroli che mi ha accompagnato anche sia in campo che fuori dal campo ricordo lui aveva un bar a Gallina e io andavo sempre da ragazzo non riuscivo fuori dal campo a ritrovarmi e quindi avevo i punti di riferimento in Missiroli e in Lello Sciavola tra parenti vorrei ricordare l'aiuto di Lello fuori dal campo perché noi in quell'anno ci furono diversi problemi in quell'anno ricordo a dicembre nell'appartamento vicino al Granillo stavamo io Cichilone Michalizzi e Costanzo arrivava sempre Lello la sera verso le 8 a portare la busta della spesa e ci ordinava tu la do i piatti tu apparecchi e tu sparecchi io cucino e veniva quasi ogni sera quindi ci ha accompagnato veramente sia dentro il campo ma specialmente fuori dal campo quindi da dimostrazioni di una persona veramente forte dentro il campo che non lasciava nulla al caso e per lui vincere era vita o morte però fuori dal campo ti dava veramente l'anima si è dicendo che vieni proprio a scena con il tema di questa storia che l'appartamento è un piccolo particolare a distanza di tanti altri che fanno le nuove in casa mentre fuori casa vanno magari a riminoccarci e Lello era diverso aveva grande personalità fuori casa dove si prendeva anche le versioni da solo no ma Lello io lo ricordo proprio per questo particolare lui in casa non ha mai fatto discussioni con nessuno però fuori casa specialmente quando ci trovavamo in campi del napoletano del siciliano che si metteva lui in prima persona a cercare di aiutare i compagni se ci stava qualche problema quindi veramente un uomo forte di carattere che personalmente per il primo anno fuori casa mi ha dato una grandissima mano infatti da lì poi ho avuto l'opportunità di fare quasi 18 anni in Sede C quindi grazie anche a Lello che mi ha dato questa spinta grazie grazie anche per tornarti perché abbiamo da premiarti credo che ci sia il consigliere comunale il mio consigliere comunale per peraclini dov'è? non vedo per peraclini ma vedo più lo glutino quindi chiamate subito al volo subito al volo è inserito nell'altra domenazione il glutino ok grazie a disposito campionato e la miglior giocatore della promozione invece va ad un ragazzo che ha appena vinto il campionato di promozione scusate un anno importante Franca Leone con impresso su la figura del vostro grande presidente è stato un anno bellissimo ma l'importante adesso è parlare della figura di Bello sono onoratissimo di ricevere questo premio dedicato alla sua memoria grazie grazie mi dice adesso che sul palco dovrebbe salire ognuno dei fratelli Sceola io vorrei Peppe Sceola prego adesso è sul palco l'importanza di questo premio l'importanza del premio diciamo che è relativa perché io ripeto ancora un'altra quando vedo le presenze di Mimmo Toscano Massimo Mitabelli Esposito il grande direttore Martino per me è tutto per me è tutto non ci sono parole sono parole quindi mi fanno vivere le emozioni di sempre grazie Giuseppe la parria Sceola ha pensato anche al miglior giovane che si è distinto quest'anno nel campionato di Serie D ha giocato a Gaeta è stato premiato come il miglior calciatore da parte di alcuni giornalisti e quotidiani specializzati laziali è stato anche un punto di riferimento un punto fermo nella nazionale di Serie D allenata dal tecnico Magrini io credo che sia opportuno un giovane lo debba per forza premiare colui il quale è riuscito a sfornare tantissimi giovani da Reggio Calabria è stato secondo me l'artefice che ha fatto arrivare la regina in Serie A Gabriele Martino direttore intanto come sta bene grazie allora lei ha visto tanti di questi giovani uno tra tutti adesso che viene seguito da alcune squadre di Serie D io ricordo un po' come dovete scusare l'emozione va a 360 la ricordiamo a Lello ma io ricordo un'altra persona allora mi disse vedi che questo ragazzo farà molto in strada grande Stefano di ora e tra l'altro ha lavorato anche con Lello lui è l'artefice che va a Lello e Lello Giugano direttore Sportino questi giovani di oggi ma da sempre in tutti i settori della vita credo che siano una energia importantissima nell'ambito del calcio più si dà in difficoltà e più si pensa che si debba ricorrere in zona invece credo che più che una necessità debba essere veramente un investimento perché rappresenta una parte più bella e più sana di questo calcio che vive in momenti difficili da Lorsino ha iniziato a giocare nella regione lei lo ricorda certamente e lo conosce sicuramente sì lo ricordo l'ho anche visto nella rappresentativa nazionale e credo che possa anche ambire qualcosa di più questo è un grande complimento di più di più allora quest'anno si è riuscito a ottenere due obiettivi essere premiato come uno dei migliori giocatori anzi migliori giocatori da parte di alcuni colleghi dei maggiori quotidiani laziani e poi si è stato anche un punto di ritenimento nella rappresentativa disegneria allenato da Madrid sì ho avuto la fortuna di partecipare al programma di Reggio con la nazionale ed è stata un'esperienza bellissima quindi vorrei ringraziare la società del Gaeta e anche il mister qui presente che mi ha dato l'opportunità di scrivere il futuro sempre Gaeta non lo so ancora mi vado un po' di giorni di vacanza e poi il futuro di Gabriele Macchini invece il prese grazie allora il premio applausi andiamo adesso a giunto la categoria i premi alla carriera prima la carriera vanno ad alcuni tecnici a qualche giocatore e anche a qualche dirigente siccome l'abbiamo avuto poco fa vorrei che avrò più tardi sul palco intanto vorrei che si avvicinasse a me uno che le dava non so se le dava come anello però al centro della difesa le dava lui è napoletano abita a Cosenza e nel settore di Cosenza si chiama Ugo e dico il nome per una voltana vieni applausi il palco mi devi spiegare come fai con un bicchiere male non hai la panza perché non hai la panza non hai la panza cazzo il 15 che mi interesserà che stai facendo di quello? è un po' prima ho fatto questa esperienza all'allio regionale di Cosenza soltanto ora non si sa la situazione della società come va a finire la grande panchina invece quando? a quando? quale panchina? è importante con tutti rispetto per i giovani no? eh come voglio dire ho visto il direttore Martino non lo so io proseguo a fare questo settore giovanile e poi se qualcuno chiama la legge ma gli dava di più nello oppure Ugo Napolitano visto che i ruoli erano gli stessi al centro della difesa guarda io l'ho conosciuto poco però quello che dicevano era più forse più cattivo di me grazie Ugo per me vorrei ringraziare la famiglia Scerola e soprattutto Massimo che ho un rapporto da venire grazie 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 anche a Peppe io sinceramente mi volevo sparare la notizia in anteprima me la volevo sparare non è possibile spero ci sia un po' la possibilità che il nostro ex giocatore della regina ex del Cosenza possa purare in una piazza molto importante ritorna con piacere perché lui è stato in passato un grande amico di me ma soprattutto è rimane un grande amico della famiglia Scerola Mimo Toscano prima un anno particolare a Cosenza ci sei ritornato pensavo di trovare le cose più scherite invece hai trovato ritorno un'altra domanda un'altra domanda un'altra domanda ma è stata una data difficile però cerchiamo di portare qua c'è l'Euro Scerola chi è stato? forse un fratello maggiore per me perché come si era a Leo erano i primi anni che andavamo qui di casa sperito in quel di Chiara Valle io ero uno dei più giovani mi ricordo che ci racconti quell'annata di Chiara Valle qualche piccolo aneddoto? è stata un'annata anche lì difficile perché l'obbligità non pronta forse ai professionisti hanno forse lo sconto di queste inesperienze il ricordo dell'Euro veniva a prendermi sotto gas perché mi accompagnavo non avevo neanche la patente e mio padre anche qui per esempio diceva a Lello e lo vi raccomando a Mimmo per tutto il viaggio prodigo di consigli che ancora oggi mi porta dietro Umbria l'Umbria non per fare la stessa già che vi capisco grazie 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 e prima prima la parola di Gioane che mi ha e arrivato poco fa lo richiamo la mente sul palco perché lui lo mente a più di ogni alto veramente è riuscito a far diventare grande il reggio Calabria dal punto di vista sportivo lui a Semagnati è stato l'artefice come dicevo prima della promozione della legina dalla selezione alla selezione dalla selezione alla serie A adesso gira per tutto il mondo a scopare giovani talenti rimane sempre per noi un grande direttore sportivo Gabriele Martino si avvicina Massimo Scevola come ci fa merita ampiamente questo premio per quello che ha fatto per il giocare e per lo sport in genere credo di aver dato un contributo mi piace pensare a quello importante che potrò fare Senta una domanda scontata lei ha conosciuto forse più di ogni altro Lello Sì come credo la stragrande maggioranza delle persone che siamo qua è quasi tutti i reggini che hanno fatto sport e che hanno seguito il calcio ma al di là dell'aspetto prettamente sportivo calcistico in particolare Lello una persona che io definirei sovare una persona per bene sicuramente una persona gioiosa una persona sempre disponibile nei confronti degli altri la nostra città ha perso e credo anche anzi sicuramente molto prematuramente una grande persona quanto ha fatto calcistico in campo era il contrario di quello che era buono tanto buono fuori e tanto tra virgolette cattivo il campo insomma era il pace dell'agonismo della voglia di di innai passi superare il suo il suo il suo il suo il suo fondamentale certo è che gli attacchiati a passare per andare via dove lo vogliono tenere grazie grazie al direttore massimo scola grazie ancora un'altra categoria questa volta si tratta dei dirigenti che stanno hanno investito stanno investendo molto per il calcio diventantistico non la vogliamo chiamare assolutamente la squadra che vuole fare che vi posso dire concorrenza alla regina perché non esiste non c'è nessuna squadra che possa fare concorrenza alla regina però visto che io vi prendo di scherzo per questa approfazione vi posso dire che le idee sono abbastanza chiare c'è un centro sportivo che credo sia invidiato in tutta la grazia e perché no in tutto il mezzogiorno d'Italia vorrei chiamare sul palco Franco Beriganò il presidente dell'interesse da tre anni nel campionato di Sirenti avete iniziato una poppa Italia nazionale vi siete salvati per tre anni consecutivi adesso si pensa alla grande anche con Di Maria ma sicuramente questo c'è un problema importante della resta del nostro futuro secondo me abbiamo creato le basi per essere veramente bene per cui adesso è arrivato il momento per costruire e realizzare questo soggetto che da un altro tempo possiamo realizzare in grande lei è nel mondo del calcio da pochi anni però ha sempre seguito il calcio sicuramente ha seguito anche le varie vicissitudini nel nostro guerriero dello Ceola guarda è in assoluto voglio dire che sono molto per dire onorato di ricevere il nostro premio in quanto la mia Ceola ha voluto sottoscritto insieme a senza altri qua oggi per premiare e ricordare insomma noi un grande uomo io uno lasciatore lo conosce da un uomo però l'ho conosciuto come un uomo e soprattutto ho parlato tantissimo questo con Massimo qua abbiamo una famiglia anche con la stradella ma con Massimo abbiamo una forza ancora più particolare per cui secondo me al di là del grande raccogliere del Stato bisogna rimandere questo mio uomo soprattutto per la carina dell'uomo e anche per quello che è da noi in Italia grazie al Presidente continuo al ritorno e molto bene intanto saluto anche il Dottor D'Antonio Castunolo il Dottor di Reggio di Buche è appena arrivato io non so se è il Dottor Gianni Maesano c'è Gianni Maesano? non c'è Gianni Maesano andiamo a Francesco Nistico che è il Vice Presidente del Comitato regionale Carabro Presidente allora calcio di rettantistico rispetto a qualche anno fa a parte dei passi in avanti sicuramente abbiamo fatto un grande passi in avanti la Calabria si è inserita a livello nazionale e rappresentata da tutte le squadre regine e calabresi quindi è un vanto per tutti perché c'è stata quella velocità che mancava da tanto tempo lei è stato anche Presidente del Sant'Anna mi pare che me lo abbia giocato un anno nel Sant'Anna lui di lei lo ricorda abbastanza bene io Vice Presidente sempre l'ho arrivato fino a questo momento quindi lei è stato il nostro giocatore forse che è un grande amico anche con la famiglia Sceola perché conosco tutti i fratelli quindi è da notare questa iniziativa che lo fanno ogni anno e che in memoria del Dello che meritava questo è da l'anno grazie grazie no stiamo iniziando se l'ho riconosciuto vorrei che lo consegnassi Francesco Liora Primo Sceola 2011 consegna Francesco Liora al Vice Presidente del Comitato dell'Ampare senza il Comitato grazie abbiamo ancora altri premi c'è il Direttore Sportivo della Reggina Giacchetta impossibilitato ad essere presente qui perché è impegnato con il suo calciomercato insieme al Presidente della Reggina Fogli ritira da lui il premio il responsabile marketing della Reggina Calcio Dottor Paolo Frascani Ascuali Balzano consigliere coronale sul palco della premiazione grazie tu hai giocare a calcio sei stato anche un discreto calciatore del Bocane anche tu hai conosciuto Lello mi parla beh intanto buonasera a tutti ci tengo a sottolineare una cosa che ritiro il premio per conto del nostro Direttore Sportivo il quale è enormemente ramaricato per non essere qui presenti e per motivi ovviamente professionali ti ho comprato cosa? ti ho comprato no l'ho sentito lui l'unica cosa che mi ha detto è che voleva che io riferissi alla famiglia e a tutti voi che è dispiaciuto di non essere qui non tanto per il premio che ovviamente è accettatissimo ma quanto per ricordare un grande uomo e un grande campione e per quanto riguarda la tua invece di domanda io insieme a qualche amico qui lo saluto in prima fila girando in tutti i campi della Calabria veniva sempre e cheggiava questo nome del grande guerriero come l'hai chiamato tu e sempre era un motivo per noi giovani per noi ragazzi di emulare un grande campione grazie a tutti i campi di emulare grazie a tutti i campi di emulare e a tutti i campi di emulare grazie grazie a tutti i campi di emulare grazie a tutti i campi di emulare penso a tutti i campi di emulare e a tutti i campi di emulare e a tutti i campi di emulare e una collaborazione e fare un memorial bellello è sempre uno per noi e partecipare è sicuramente un banto è un onore e siamo sempre al campo della famiglia ascevola perché anche in questa occasione sia nell'organizzare un premio o nell'organizzare un torneo o nell'organizzare qualsiasi cosa un nuovo livello noi siamo ben felici e sempre a campi di emulare grazie Vino vorrei che Vino sta venuti felici e premiata la felice mediglionda ancora grazie a tutti Grazie a tutti. Ciao Tiziana, anche tu impegnatissima? Sempre, sempre impegnatissima. Coni Provinciale imparga tantissimi progetti in cantiere. Intanto ho porto anche saluti al Presidente del Coni Provinciale che è impegnato in un'altra attività in provincia. Il Coni Provinciale è sempre in attività per diffondere l'attività promozionale prima di ogni cosa, quindi per dare spazio ai giovani che come poc'anzi hai ben ricordato tu insieme al Direttore Martino rappresentano in tutti i settori la base della nostra società. Quindi non vorrei usare un termine un po' commerciale ma è un investimento sicuro, quello di lavorare sui giovani e di dare a loro tutta la loro attenzione. e andiamo verso il periodo estivo che è un periodo di riposo penso anche per tutti, anche per il mondo del calcio anche se immediatamente abbiamo il mercato che è alle porte, insomma quindi un po' la strutturazione delle nuove squadre però è chiaro che si inizia poi i peschi a settembre pronti ad affrontare le nuove realtà lavorative e piacevolmente sportive. Grazie, grazie, grazie. E' rimonto appetito dalle donne una volta, ho specificato una volta, adesso c'è sempre la pace. Io volevo ringraziare la famiglia Scevola, però è chiaro che è un piacere ricevere questo premio intanto perché ricorda un amico e poi perché è dato in questo momento da degli amici che sono rappresentati dai fratelli Scevola che hanno ereditato dalla famiglia, cioè da suo padre, quella che è la passione per lo sport e continuano a portare avanti il ricordo di Lello ma la passione di Lello nelle attività sportive calcistiche prevalentemente. Quindi grazie a tutti di vero cuore. Grazie a tutti, voglio fare questa fase di conosciuto, da parte di nuovo, grazie ancora. E' riuscito ad ottenere uno dei pochi, poi, assieme al direttore sportivo Martino, riuscire a ottenere questo patricino da mattina a questa parte. Anche lui gira adesso attraverso l'Italia per scopare qualche giovane, ha fatto grande in totale, portandolo in cattivoli importanti. Paolo Campino. Paolo, hai indicato qualche volta a tuo collello? Si parla di Lello che era uno molto cattivo in campo, molto buono fuori. Tu lo sei stato ugualmente, molto cattivo in mattina, discredente buono fuori. No, non c'è stata l'opportunità perché l'ho avuto qualche volta in campo e poi altre volte andavo a seguirlo volentieri in tribuna, specialmente per vederlo in aria quando c'erano i contatti con l'avversario. E quindi non c'è stata l'opportunità ma di risultarci calcisticamente. Grazie Paolo, Vimo Zampaglione, ti vuoi accomodare per... Anche a te Paolo, grazie per la tua presenza, grazie anche a me. Grazie alla famiglia Sceola. La famiglia Sceola non dimentica mai e lui da molto lontano è sempre presente, è arrivato qui alle 17.45, cioè con un portatore di anticipo, è uno che ha giocato, credo, con Lello, è uno che ha scopato tanti giovani in passato, è una persona che sa fare molto bene secondo il mio punto di vista e il suo lavoro. E' Massimo Mirabelli, il pre-sportivo, fino a quanto tempo fa è scoperta, adesso ci vi allungo e vorrà fare la grande. Intanto parliamo di quello che c'è alle nostre spalle, che ci sta guardando là su, dove io credo che abbia fatto una squadra, perché, scusatemi, ricordiamo Albregati, ricordiamo Fiorino, ricordiamo qualcun altro. E credo che la risu, il nostro grande Lello, sia sempre il soldo capitano, il soldo guerriero a gestire tutto. Per chi lo conosceva bene Lello sicuramente sì, perché era un amante di questo sport. L'altro posto della cattiveria, poi mi ricordavo, perché noi insieme a Mimmo e Giamalleo abbiamo vissuto quella splendida annata di Caravalle, dove in Serie C, all'epoca una Serie C abbastanza diversa di quella di oggi, ma ha meritato, basta che lui ne scontrivo e ti dedicasse il miglior stocker del Cilone. Ma lui, ricordando un po' quell'annata, mi ricordo che non ci potevi giocare contro. La cosa era anche nelle partitine, voleva vincere sempre, era sempre, come diceva pure qualcun altro, tanto buono fuori, ma dentro sempre determinato a non bollare un attimo anche alla partita di allenamento. Vivere il calcio così come l'ha vissuto, in modo straordinario. E poi, per chi non lo sapesse, era amatissimo dalle donne, c'era veramente, io mi ricordo quell'anno là, era il calcettone più amato delle donne, di chi era amato. Questa è una particolarità che volevo evitare, perché non sapevo anch'io di questo punto d'epoca, ma non c'ho il livello, anche di qualcun altro. Invece il tuo futuro, Masso? Ma il mio futuro è sicuramente stare in questo bellissimo mondo, anche se oggi come oggi un po' si sta parlando male di questo mondo, però ritornerà allo sport più bello del mondo. E speriamo di rimanerci dentro e a breve potersi che succederà qualcosa. Cosa è calda fuori di Cosenza, ma era il freschetto Umbro? No, 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 il freschetto Umbro riguarda Mimmo Toscano, che penso che se lo preverà a tutti. Bene, già dicevo la premia Massimo Milagheri. Grazie Massimo. Chiedo scusa a ritornare indietro perché è arrivato poco fa in sala, quindi c'era un altro premio alla carriera che la famiglia Scevola lo ha voluto destinare o dare, per quello dire, ad uno che ha giocato nella Reggina, ha conosciuto molto bene Lello, ha giocato con Lello, ha giocato in Serie A con la Fiorentina, ha allenato ultimamente in tante squadre, mi ricordo esempio i Padrani, mi ricordo pochissimi giorni di Interregio, mi ricordo anche l'Igia Virtus e mi ricordo anche Messina. Sergio Campolo. Arrivo un po' da stare, no? Con un passettino alla volta. Ciao Sergio, bene ragazzi. Allora, ricordiamo un grande amico questa sera. Per me è un grandissimo onore essere qui, ricordato dalla famiglia Scevola in un giorno così importante, in un ricordo così importante per loro. Purtroppo con la famiglia Scevola ci ha comunonato uno strano destino in questo senso, perché credo che più di me con Lello era molto più amico mio fratello Giuseppe, con il quale hanno condiviso tantissime esperienze positive e negative, ma... Ricordiamo anche Giuseppe. Quindi comunque per me è un motivo di grandissima soddisfazione, soprattutto perché oltre il discorso calcistico, professionale e tutto quanto, noi ci riteniamo veramente molto amici della famiglia Scevola, quindi per me è veramente un grandissimo onore. Sergio, come non riesci sempre, ogni anno, ad avere una macchina diversa? Colpa di Campolo, colpa dei Presidenti oppure colpa di me? No, di Campolo sicuramente. Di Campolo sicuramente perché purtroppo sono cresciuto con degli ideali calcistici veramente importanti, in cui magari in quei periodi soprattutto si guardava solo e esclusivamente al terreno di gioco, oggi mi rendo conto che il calcio è profondamente cambiato. Mi dovrò fare un'abitudine, sicuramente cercare di cambiare io un pochino, smussare qualche angolo del mio carattere, ma sicuramente in toto non credo di poterlo fare perché il mio carattere mi ha sempre dato la forza, soprattutto nei momenti un po' critici di andare avanti, quindi che ne possa dire qualcuno, io sinceramente il mio carattere me lo tengo ben stretto, cercando magari un po' di smussare qualche angolo, ripeto, nel 2011 forse il calcio è un pochino cambiato e lei è Sergio Campolo che forse si deve adeguare. Grazie Sergio, vedo lì, aspetta, vedo lì, seduto in sparte. Giuseppe Agliano, ti vuoi avvicinare a palco? Ciao Giuseppe, allora il premio alla carriera, guarda che il premio ti sei guadagnato, Sergio. Io sono contentissimo intanto perché non avevo dubbi che la foto fosse sempre la stessa perché è una foto che abbiamo a casa mia, da mia madre, con la stessa maglia, oltretutto io l'anno scorso ho avuto il piacere di partecipare al Memorial e la famiglia Cevola un po' di parte, diciamo, mi ha voluto premiare come miglior giocatore. Ed è la stessa foto, sono contentissimo di questa. Grazie, grazie Sergio, Peppe Di Mano, tra Agliano e Cazzo, grazie a te. Grazie Peppe. Allora, è stato chiamato per cercare di fare il miracolo, questo miracolo ci stava riuscendo, però rimane sempre un validissimo tecnico dal mio punto di vista. e Peppe Giovinazzo, tecnico del vocale, non sappiamo se sarà riconfermato o meno, ma non c'è Peppe Giovinazzo? Non c'è. Ma c'è? Peppe Giovinazzo è un miracolo, quest'anno non c'è riuscito, però non parliamo di vocale, perché non è il momento, non è il luogo, parliamo invece a ricordare quella persona che tutti noi abbiamo conosciuto e sicuramente anche te. Io purtroppo non ho avuto la porzione di conoscere, lo parlò, però lo seguivo da quelli che erano i giornali, quelle che erano le ligerie positive che si diceva di questo grande personaggio, effettivamente è uno che ha insegnato tantissimo ed era una grande persona. Posso farti premiare dal tuo maestro, se è possibile? Francesco Viola. Grazie. Andiamo velocissimamente alla conclusione, grazie a Francesco e a Cassette. Abbiamo anche due premi e poi andiamo ai colleghi giornalisti. Bruno Leo, che è il co-presidente del Reggio Sud. Grazie Bruno, anche te lo ricordo. È un inciso, mi scuso con la famiglia scevola perché non ho la giacca, ma ho fatto di proposito perché so che Nello riava le giacche, quindi ho fatto questo pensiero. Che dire, io ho conosciuto Nello che è l'ultimo anno dal calciatore, io sono stato il suo presidente e da quel momento oltre che un calciatore, cioè è diventato un amico mio, l'hanno detto già in tanti, forse mi ripeto veramente l'aspetto pulvero che aveva Nello dentro il campo con gli avversari logicamente eccetera. Poi si rispetteva nella sua vita quotidiana di una persona veramente di una bontà infinita e credo che il ricordo che questo possa essere questo livello. Grazie. Grazie, grazie. Gianni, se può tornare il tuo cuore, grazie. Grazie ancora. Muli è un tecnico professionista, ha lavorato da anni nel settore giovanile della regina calcio e è stato anche un allievo, credo, della professora Boranina Franco Scoglio. Adesso lavora per conto del mondo della calcio. Pino Scomillini. Io so che Pino, straordinario perché me lo hai detto un paio di giorni fa, tu ricevi questo premio, però ha un cuore molto nobile, molto grande e so per certo che questo premio che tu ricevi questa sera lo vuoi dedicare ad una persona particolare. Al piccolo Salerio che è morto. Visto che i tuoi capelli sono abbastanza bianchi, anzi non ce ne stanno a fare, infatti. Ricordo di quello. Lello era l'allegheria. Hanno detto di tutto. Era l'ultima volta che l'ho visto avere negozi al mercato di sport. Io stavo passando, sono passato dritto, mi ha tirato una volta e dietro mi ha lasciato mezzo sforbito. Mi ha detto che mi fai passato dritto. Era una persona eccezionale. E dopo lo voglio dedicare anche a tanti amici come Stefano che per me era... Grazie, grazie. Ancora Gianni. Grazie. Grazie ancora. Passiamo ad un'altra categoria. Il riconoscimento dei colleghi che si sono distritti in questi anni parlando di calcio ma soprattutto anche ricordando Rocco. Lui è da 30 anni che ci accompagna, ci fa rivivere le emozioni della regina se uno è a casa è come se fosse a granito, se la regina gioca a parese è come se giocasse a granito. E la voce, secondo me, è il numero uno che ci ha raggiocato prima di un solo. Rocco Musolino. Rocco, allora, su Lello. Su Lello, intanto l'ho visto giocare, sai che non frequentavo quei campi come te tantissimo, però l'ho visto giocare e l'ho conosciuto anche fuori e l'ho visto quando proprio dava consigli a tutti i suoi colleghi calciatori. e tra l'altro è stato riconosciuto anche a livello di campione del mondo che Marco Materazzi mi pare lo abbia riconosciuto quando ha detto che è stato un avversario leale, grande guerriero in campo e poi persona splendida fuori. Hanno detto già tutto di bello, ma me lo ricordo così. Grazie Rocco, Massimo Sciola. Vediamo poi. Ancora grazie a Rocco. Grazie a Rocco Miglino, direttore di Radio Turi, che non è il cronista della regina calcio. Lui ha seguito il calcio, ha seguito lo sport, adesso grazie allo sport è riuscito ad avere un incarico molto importante e gratificante da tuttavia professionale. è il vice capo filosofo dell'Aggiunta regionale, il dottor Massimo Calabro. Anche Massimo ha avuto una brillantissima idea a ricordare Lello attraverso anche i tuoi articoli, tanti articoli. Sì, l'ho ricordato più volte, un grande uomo, ringrazio ovviamente la famiglia Scevola per avermi voluto qui. Io volevo dire un'altra cosa, è emozionante sempre ricevere un premio, ricevere un premio dedicato a Scevola e ancora di più, tra l'altro con i fratelli Scevola li abbiamo voluti coinvolgere, come vuoi ricordare, nella scuola dei giornalisti, e credo che comunque sia stata una scelta importante perché comunque è molto significativa. L'ultima cosa e poi ti lascio, è difficile entrare nella storia di questa città sportivamente parlando. Lello c'è stato e c'è entrato a pieno titolo per un motivo semplice, perché giocare nella Regina ed essere di Reggio e giocare con la Vis Pugnandi che metteva lui è una cosa molto importante, così come vedo qui anche due ex giocatori della Regina che certamente sono entrati nella storia di questa città per aver giocato con la Vis Pugnandi, come noi giornalisti e tifosi vogliamo vedere e Lello è certamente riuscito, mi riferisco comunque a Toscano, a Sergio Campolo, non so se ce ne sono anche altri, perché ripeto, essere diretti e giocare nella Regina a quel livello, indipendentemente dalla serie, ma con la grande passione, credo che sia un elemento importante per entrare nella storia di questa città. Ilaria, parola, Massimo Calabro. Grazie. Lui ha giocato a calcio, credo nella Stella Rossa, voi ha iniziato a fare il giornalista, a Telereggio, da qualche anno a questa parte commenta le partite della Regina attraverso il canale Sanitano e molto importante Sky. Michele Favano. Michele, quante volte hai interessato Lello? Diverse volte. Fammi prima correggere una cosa, perché hai parlato di precedenti calcistici, io facevo parte della inviata Gabriele Martino, ero il più scarso della squadra nella quale giocavano Mimmo Toscano e Sergio Campolo, però per me è comunque un onore, perché ho imparato soprattutto dal direttore. Viva l'umiltà, hai detto, è scassissimo. L'hanno detto i risultati, non lo dico io, perché voglio dire loro, hanno fatto una grande carriera, io e io. Non hai scondato come calciatore, hai scondato come giornalista. Scondato, ci divertiamo tutti e altri. Fammi dire invece una cosa che mi chiesto di Lello quante volte ho intervistato, con Lello insieme ai fratelli scevoli, perché loro sono identificati come i fratelli scevoli, anche se parli di uno solo, sono i fratelli scevoli. Ci incontravamo spesso per strada, facciamo viacchierate, la zona di Piazza Ora, dove ricordava, non mi ricordo qui, il negozietto che allora doveva avere anche l'applicamento sportivo, ed era un piacere parlare con lui, perché è vero, parlava poco, ma diceva sempre cose sensate e soprattutto di grande competenza. Questo per me è un premio speciale perché ricorda una persona speciale. E io lo accetto, ma molto, molto volentieri, di vero cuore, perché condivido con la famiglia scevola un bellissimo rapporto di amicizie. Sono anche un po' emozionato perché... Cioè, Lello... Scusate. Non so per quale motivo poi c'è stato qualcosa che si è innescato, direi, di rapporti, di meccanismi, anche con Massimo che è... Grazie Michele, grazie. Grazie, grazie Michele. Ancora grazie Michele Favano. Sì, allora andiamo subito con Lorenzo Vitto, gazzetta dello sport. Felicissimamente. Oramai tu sei diventato snoppo con la Serie A, con la gazzetta dello sport, però il calcio direttantistico l'hai trattato anche tu. Anche, pure faccio 5 ore ogni estate. Dello si cimentava pure ambato in cuore, sinceramente, in questa disciplina nuova per lui. Però faccio 3-4 tornei stili, uno terminava e un altro che iniziava. Però ogni ricordo è superfluo in questo momento. Questo per me è soltanto un orgoglio di essere qui e di ricevere questo premio dalla famiglia che mi lega un'amicizia stretta, specialmente con Massimo, dove abbiamo iniziato a giocare a calcio nella Diamante quando eravamo 10 anni. Ed è Ilaria che ti consegna questo premio, questo riconoscimento. Per concludere il discorso relativo ai giornalisti, vorrei che salisse sul palco il collega Andrea Di Pepi. Ciao Andrea, tu hai iniziato con me a fare il calcio iniettantistico, hai intervistato parecchie volte e hai scritto anche parecchie volte di terra. Quando me lo dovevo di fronte sinceramente mi cudeva un po' di timore visto la stanza. Un grandissimo giocatore, lo ricordo appunto quando seguivo il vocale. Un grandissimo calcio d'oro, un uomo davvero straordinario. Ci manca, mi manca di vederlo magari rincorrere un pallone. Mi sarebbe piaciuto anche intervistarlo per continuare a parlare anche di Reggio Insemane. Grazie, grazie Andrea. Altri due colleghi giornalisti che stanno dando un grande supporto al calcio iniettantistico. Poi parla su una televisione molto popolare che non va in onda solamente in Calabria, a Reggio Calabria ma un po' in tutta la Calabria. Antonella Volenda di Antenna FAPEA, se si avvicina al palco. Ciao, e allora vorrei anche tu che ci dessi una piccola tesimonianza di Nelore che penso che l'hai conosciuta abbastanza bene. Diciamo che quando io ho iniziato lui stava per concludere la carriera di calciatore. Ricordo soprattutto gli anni ad archi che secondo me sono stati quelli più importanti dove oltre ad essere un grande giocatore era il leader, cioè una persona di riferimento anche per la società. E mi sembra che abbia fatto anche benissimo poi col Santa Caterina l'ultimo anno di calcio giocato in Serie D quando appunto oltre al giocatore abbiamo avuto modo di apprezzare i dirigenti, il faccdotto perché poi riusciva anche ad essere la persona di fiducia dei presidenti. Sicuramente nel calcio odierno un elemento come lui avrebbe sicuramente fatto una bella figura anche a livello di Serie A, Serie B perché alla sua epoca era un calcio più tecnico, oggi che è un calcio più muscolare probabilmente avrebbe avuto più fortuna e quindi una carriera diversa. Merenda viene premiato dal signor Spataforia che è il responsabile Ologel che arriva da Cosenza. Grazie a tutti per cercare le ditte che hanno permesso appunto la riuscita di questo amore, ci vogliamo che sia riuscita abbastanza bene questo secondo memoria Lelo Sceola, Globo, Carri, Via La Bocchetta a Reggio Calabria, Renco SRL, L'Ossi della Frutta Santa Caterina, Comerciale Bruzia Rende, Rolè Garda, la ristorante dei freddi Brancati, la masticceria dei freddi Pragomeni a sbarri inferiori, distributore Algep di Lugra Pasquale in via Sfrido Sancio, poi la masticceria di Sfrutto in via Schenze e ovviamente fare sport in via Sbarri Centrale. Grazie signor Spataforia. Abbiamo tre premi stagiani, allora io ho cercato di anticipare i tempi, probabilmente la questione qual dirà nei prossimi giorni, vorrei accanto a me dare un premio Daniele Romeo. Questo è un premio Daniele che la famiglia Sceola dà a te personalmente, come amico personale e so che anche tu in passato, penso anche adesso, hai seguito il calcio, hai seguito anche Lelo quando giocavo. Ho conosciuto più il Lelo non calciatore che il Lelo che ha giocato al pallone, ero un po' più piccolino per quei tempi e quindi non ho vissuto quell'esperienza di Lelo. Conosco bene la famiglia, con Peppe mi lega una amicizia particolare molto stretta e quindi insomma un grazie alla famiglia che mi ha voluto qui, è importante che i giovani che si avvicinano al calcio e pure Pino Scoperito lo ricordava prima il piccolo Saverio che in questi giorni ci ha lasciati, vedano nell'esperienza di Lelo il calcio vero, il calcio non quello delle scommesse del doping, ma il calcio vissuto e fatto con il cuore. E' proprio Peppe Scela che ti consegna questo riconoscimento. Grazie a Daniele Reno. Grazie. Un altro amico nostro che davvero ha dato tantissimo per lo sport a reggine calabrese, Peppe Agliano. Agliano, tu mi guardavi in passato tante volte prima di Lelo. Come no, come no, infatti sono contento di essere qua, ringrazio la famiglia Scevola come è stato detto, fa parte ormai pieno titolo della storia del calcio. Reggino, quindi sono contento di ricevere questo riconoscimento perché il passato l'abbiamo pensato noi e adesso pensa la famiglia Scevola e quindi sono veramente contento. Si è detto tutto di Belè, era un uomo fuori e dentro del campo, io non ho frequentato i campi come voi di calcio, però l'ho conosciuto al di fuori e devo dire che la sua serietà, la sua pagatezza, la sua riservatezza era veramente esemplare, quindi ero un uomo. Grazie Peppe, Serena, se ti vuoi avvicinare, ma consiglio a Serena, Serena. Credo che sia più conveniente di ricevere un premio da una fanciulla carina e grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te. E' stato anche lui, non dico l'artefice di questa location, però, 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 Pino Pludino, consigliere comunale. Ciao, Pino, ricordiamo Lello e così andiamo alla conclusione. Guarda, io devo dire, la verità, io non conoscevo personalmente Dello Scevola, però ho ascoltato qui il ricordo di tutti i suoi amici e di tutti i suoi lavori e devo dire che anche io adesso lo conosco tutti gli altri fratelli, questo per me è un premio inaspettato, ti devo dire la verità, sono felicissimo di ricevere questo premio, che mi onora tantissimo e desidero ringraziare la famiglia per questa cosa, grazie. Grazie, grazie a te, Giovanni, ancora grazie a Pino Pludino, ringraziamo anche il governatore Scovelliti della Calabria, dove è essere qui con noi, l'intente proprio istituzionale che l'hanno tenuto fuori a Reggio, così come anche il sindaco della città di Marena e ovviamente anche il presidente della provincia Giuseppe Raffa, grazie anche al loro supporto comunale, vorrei tutta la famiglia con me, se era possibile, i fratelli soprattutto. Gianni, Massimo, Peppe, Domenico Lora è andato di là, ah era venibile, ci sono anche le nipote, Ilaria ed Serena, cosa direi di questa serata Massimo? Niente, è una serata bellissima, ringrazio tutti, non è facile parlare, mi ricordo di tutte le persone. Buona volta ringrazio un po' tutti, mi auguro che questo sia un inizio per ricordare ogni anno la memoria di mio fratello, ringrazio in particolare l'ASI dell'Alleanza Sportiva Italiana e stasera era presente il consiglio nazionale Fino Scobeliti per la recita della serata. Non ci siamo solo reti dimenticati perché non vorrei che gli ultimi fossero i primi, però sono dei colleghi che stanno dando una grande mano d'aiuto, non solamente al calcio ma alla cronaca, allo spettacolo a tutti. È un sito online, mail online, vi vorrei premiare e vorrei che venisse sul palco Domenico Salvatore, se non c'è Domenico, anzi c'è Domenico, prego Domenico. Non mi ero dimenticato Domenico. Grazie anche Domenico, velocissimamente perché hai iniziato con il calcio, direttamente. Buonasera, innanzitutto complimenti agli organizzatori per queste manifestazioni che fanno bene alla salute e soprattutto allo sport e alla cultura. Il Lello non aggiungo granché, mi occupo da 40 anni di queste cose, quindi ho scritto per diversi quotidiani tante pagine meravigliose. Quindi ringrazio la famiglia Scevola e grazie di tutto. Grazie Domenico, premio che viene dato da Nino Neri, che se lo merita Domenico. Ho ricevuto tante taglie e tagliette, però credo che questa sia la più importante perché è il ricordo di un amico, l'ho detto in presenza, in apertura di serata, è uno di pochi amici belli che io abbia conosciuto. Grazie a tutti, buonasera e grazie per la domanda. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.